La Lazio penalizzata, la Fiorentina penalizzata Non c'è, ha fatto un cammino d'osseri Però, c'è, con lo scuento l'ha meritato Però questa perde 6 a 2 dalla Roma che sembra impossibile In maggio credo, perché l'ho vista la partita Che sembra gravuroso Il Mila si ritiene adesso, si ritiene adesso Il Mila vince, secondo me Il Mila vince con l'Ivercule perché se tu hai perso Tu hai di pera troppo sicuro No, vince, vince